Dici Marsiglia e pensi a sacco di cose. Pensi alla promenade, alla passeggiata lungo il mare. Pensi al pastis, il vino da aperitivo che viene servito proprio nei locali di Marsiglia, che a Marsiglia in fondo è nato, al punto da conservare nella zona diversi laboratori che lo producono. Pensi alle canzoni francesi, pensi alla malinconia, pensi alla Costa Azzurra, pensi un po' al turismo. Però magari pensi anche ai film in bianco e nero, quelli che rappresentavano una Marsiglia un po' cupa, quelli che rappresentavano una Marsiglia decisamente oscura. Magari pensi anche a Papillon, il famoso criminale francese plurievaso da diverse carceri, la cui vicenda poi divenne un famosissimo libro autobiografico e poi un film. Oppure pensi al milieu. Il milieu è sostanzialmente qualcosa di intangibile, ma è un termine, che nel mondo della malavita vuol dire molto. Vuol dire sostanzialmente la malavita stessa marsigliese. Vuol dire quel mondo fatto di bande, di contrabbandieri, di rapinatori, a volte anche di spie, che si intreccia nei vicoli della città vecchia di Marsiglia e arriva fino al porto. Il milieu, la culla della malavita francese nel Mediterraneo. Ma da quella culla a volte fuoriescono dei neonati, che decidono di svilupparsi altrove. E' il clan aso di Albert Bergamelli, di Maffeo, detto Lino Bellicini e di Jean-Jacques Berengher. Bergamelli, Bellicini, Berengher. Lettre B, alias il clan dei marsigliesi. Questa è la loro storia. Per capire il clan dei marsigliesi occorre risalire un po' indietro nel tempo. Andiamo agli anni Sessanta, un periodo turbolento, un periodo in cui la malavita italiana non vive ancora l'esplosione del fenomeno mafioso, che è abbastanza circoscritto. D'altronde la mafia, nei primi anni Sessanta, conclude la stagione della sua prima grande guerra intestina e sceglie un periodo di relativa calma per riorganizzarsi. La camorra è un fenomeno molto circoscritto alla campagna e comunque è decisamente disorganizzata e altre sigle, altri sindacati criminali non si vedono. Piuttosto è il periodo dei solisti, come Luciano Luthring, il solista del mitra, chiamato così perché era solito custodire la sua arma preferita, appunto un mitra, all'interno di una custodia da violino. Oppure Horst Fantazzini, il criminale gentiluomo, è un periodo che vede un pullulare di criminali solitari o di piccole bande o batterie, come si dicono a Roma. Ebbene, il 15 aprile del 1964 c'è una batteria che compie una spettacolare rapina in via Monte Napoleone a Milano. Via Monte Napoleone, lo sappiamo, è la via del lusso a Milano. E in quella gioielleria, in via Monte Napoleone, ben otto banditi marsigliesi, guidati da un uomo che si fa chiamare Jojo o Jolemer, cioè Jo il sindaco, ma che in realtà si chiama Giuseppe Rossi, fanno irruzione armati e ne escono a volto coperto, ma con un bottino eccezionale, 200 milioni di lire in denaro e preziosi. È un colpo incredibile, viene subito spettacolarizzato dalla stampa stessa. Ma i banditi, nel giro di appena una settimana, vengono tutti ritracciati, arrestati e mandati a processo. Verranno condannati fra i 3 e i 9 anni di reclusione come pena, a seconda della gravità. All'interno di quella banda, di quella batteria messa in piedi da Jolemer e composta da ragazzi scappati da Marsiglia, c'è lui, Albert Bergamelli, un bandito, bandito di strada, che vuole far fortuna in Italia. Come tanti altri suoi connazionali ha deciso di andarsene da una Francia molto violenta, ormai troppo piena di sigle malavitose, e sconvolta anche dalla guerra non dichiarata, ma evidente, tra Charles de Gaulle, Presidente della Repubblica, e l'OAS, per cercare fortuna oltre Alpe in Italia. Albert Bergamelli sconta la pena in cui viene condannato per quella rapina, insieme ad altri 7 in via Monte Napoleone a Milano. Ma, uscito di carcere, decide di spostarsi, di andare a Roma. Perché? Perché il Nord non fa per lui, è turbolento, prima Milano, poi Torino, troppa polizia e soprattutto troppe misure di sicurezza. Soprattutto Roma, oltre a essere la capitale, ha anche il cuore della società italiana e conserva al pari di Milano un bel numero di borghesi ricchi e di ex nobili, altrettanto se non ancora più ricchi. Oltre al fatto che Roma è ricchissima di banche e di gioiellerie. A Roma, Albert Bergamelli viene introdotto sempre da lui, da Jolemer, che, uscito di carcere, ha avviato un'attività che fa un po' sorridere, fa il rappresentante di whisky. Ma in realtà è un'attività di copertura, gli serve solo a riciclare i proventi delle rapine dei suoi soci. Attraverso Jolemer, Albert Bergamelli entra incontrato con Lallo Lozoppo, un famoso criminale romano, suo vero nome è Laudavino de Sanctis, ma anche Mariano Castellani, Paolo Provenzano e Danilo Abbruciati. Di lui abbiamo già parlato in un apposito video, Er Camaleonte. Abbruciati in quel periodo ha smesso la carriera di pugile, è entrato a far parte di una gang, i Camaleonti appunto, ha fatto qualche rapina. Tra Bergamelli abbruciati è simpatia, ma Bergamelli preferisce restare sempre nell'ambiente francese e quindi si associa con altri due marsigliesi, Maffeo Bellicini, che tutti chiamano Lino, e Jean-Jacques Beremger. Sono loro tre a decidere di fare fronte comune, di costituire una vera e propria batteria criminale, una batteria che si dedicherà, inizialmente, alle rapine. Bellicini, lo dice il nome, ha chiare radici italiane. È nato da una famiglia bresciana, ma è cresciuto in Francia e quando conosce Beremger è già un gangster abbastanza affermato. Si è già fatto le ossa, come si dice nell'ambiente. Non ha solo rapinato. Sotto Jean-Claude Vellat ha anche cominciato a spacciare droga e ha capito anche come sfruttare la prostituzione, che in Italia non è più regolamentata dalla legge Merlin del 1958. Attraverso Bellicini, Bergamelli può mettere in piedi due business molto lucrosi. Uno è il racket della prostituzione. Gli altri papponi, i protettori, vengono picchiati e convinti, con la forza, a lavorare per l'E3B, il clan dei marsigliesi. E l'altro sono i rapporti con la Turchia. Turchia da dove arriva la morfina base, lavorazione dell'oppio, che serve per produrre l'eroina. Roma diventa una capitale dello spaccio e negli anni 70 i ragazzi che finiscono all'ubitorio con un ago in vena cominciano ad essere sempre di più. È veramente una brutta storia. Berenguer invece è a Roma da parecchio tempo. Quando Bellicini vi si trasferisce nel 1973, Berenguer è lì già oltre due anni. Ed è lì perché è in fuga. In Francia lo hanno accusato di aver ucciso una prostituta. Non a pistolettate, a ceffoni. Berenguer è manesco, è uomo dalle maniere spicce. È stato già arrestato durante una sua trasferta di lavoro a Genova, ma era riuscito a farsi liberare. Con questi tre si avvia un lucroso business. Un business che parte dalle rapine, in cui i proventi vengono riciclati attraverso i cravattari, cioè gli strozzini, oppure attraverso commercianti compiacenti. Poi c'è anche la prostituzione, lo abbiamo già detto, ma ci sono anche le bische clandestine, quei piccoli casinò ricavati nei retrobottega o in stabili assolutamente anonimi, in cui i signori della Roma Bene vanno a giocare, a togliersi il vizio del gioco d'azzardo. Quando il gioco d'azzardo è quasi ovunque illegale. E poi, come vi ho detto, c'è il traffico di stupefacenti. Ebbene, per ottenere tutto ciò, per ottenere tutto questo potere, per ottenere mano libera, le 3B non si fanno scrupoli. Come abbiamo detto, picchiano i protettori delle prostitute, organizzano i racket. E quando i vecchi boss, i capi delle altre batterie che erano lì a Roma, prima di loro, provano a protestare, anche questi vengono picchiati o presi a revolverate. Ermaccarello, Sergio Maccarelli, Carlo Fajella, Ettore Tabarrani, Umberto Cappellari. Sono loro a opporsi inizialmente ai marsigliesi, ma vengono tutti costretti a battere in ritirata. La forza dei marsigliesi è enorme, ma si scontra con un problema. Un problema che si chiama rapine. Perché le rapine non sempre vanno come in via a Monte Napoleone. Non sempre sono incruente e fruttano un bel bottino. È il caso del 22 febbraio del 75. Piazza dei Caprettari, Roma. C'è un ufficio postale. Il clan dei marsigliesi assalta l'ufficio postale, ma la rapina si conclude male. Per due motivi. Il primo è il bottino. Solo 400.000 lire. Si pensava che le casse, il cavo dell'ufficio postale, avesse molto più denaro. E invece è una delusione. Secondo, che è ancora peggio, è che per la prima volta le 3B si lasciano dietro un morto ammazzato. Un agente di pubblica sicurezza, il nome Giuseppe Marchisella, che viene ucciso da una sventagliata di mitra. Questo è il primo problema. Le rapine sono rischiose. Anche perché dopo aver ucciso un poliziotto, le 3B non possono più contare su nessuna gentilezza da parte delle forze dell'ordine. Ancora di più perché, distrutta dal dolore, anche la fidanzata di Marchisella si toglie la vita nel giro di qualche giorno. E giusto per completare una lunga, lunghissima scia di sangue, le 3B decidono anche di giustiziare un loro fiancheggiatore, Ertopolino, Claudio Tigani, che aveva preso parte alla rapina, ma che chiedeva una bella fetta della torta. Troppo, secondo le 3B, che decidono di giustiziarlo con un colpo alla testa, appena due giorni dopo il fiasco di Piazza dei Caprettari. Da quel momento in avanti, le 3B cambiano strategia. Basta con le rapine. Troppo rischiose, per i soldi, e per il rischio di ammazzare qualcuno o di finire ammazzati. Quindi, cambiare obiettivo. Sequestri di persona. Siamo nel 1975. 1975 è la stagione dei sequestri. Una stagione che andrà avanti per almeno altri tre anni. Ci sono sequestri di tipo politico. Lo fanno, ad esempio, le Brigate Rosse per finanziare la loro latitanza e la loro lotta armata. Ci sono sequestri dovuti, invece, a questioni interne alla malavita. E poi ci sono i sequestri, semplicemente per ottenere riscatti miliardari. Le 3B preferiscono, ovviamente, questa strana. Niente politica, niente regolamenti di conti. Da quel momento si comincia a sequestrare. E tra il 1975 e il 1976, i marsigliesi di sequestri ne fanno 5. Il più eclatante è quello che riguarda un notissimo gioievere, Giovanni Bulgari. Sì, Bulgari, quelli di cui vedete il marchio nelle grandi gioiellerie, gli orologi costosi, e non solo, anche le collane, i pendenti, gli anelli, loro. Giovanni Bulgari è una persona molto importante e molto ricca. Viene rapita questa persona il 13 marzo del 1975, cioè poche settimane dopo il fiasco di Piazza dei Caprettari. È un rapimento modello, potremmo definirlo, che viene effettuato nel giro di pochissimi minuti all'interno di una strada trafficata in corso Italia, a Roma. Il commando delle 3B entra in azione, scaraventa giù l'autista dell'auto di Gianni Bulgari, si mette al volante e sparisce con l'ostaggio, che viene tenuto prigioniero per un mese, finché la famiglia non paga il riscatto, ovviamente miliardario. Il 10 giugno successivo c'è un altro pesce grosso. Si chiama Amedeo Ortolani. È il presidente della Voxon, una società di elettronica, società però che è versa in cattive acque. Ma più di qualcuno comincerà ad avere dei dubbi su quel sequestro. Perché Amedeo Ortolani è il figlio di Umberto Ortolani, un noto finanziere e successivamente si scoperirà sodale di Licio Gelli, non nel commercio dei materassi, ma nella P2. Come mai le 3B hanno preso di mira il figlio di un uomo così potente e apparentemente intoccabile? Cosa c'è dietro il sequestro Ortolani, che si conclude dopo appena 11 giorni e con un riscatto da 800 milioni di lire? Ci sarà un magistrato che vorrà vederci chiaro. Quel magistrato era Vittorio Occorcio e pagherà con la vita la sua volontà di scavare nel torbido, di scoprire cosa ci fosse dietro i marsigliesi. Perché scavando, Occorcio scopre che i marsigliesi hanno tante ramificazioni, tanti complici. Ad esempio hanno dei rapporti, potremmo definirli privilegiati, con la malavita milanese, con Francis Turatello, uno dei due re della mala a Milano, in competizione con il bel René, Renato Valanzasca, il capo della banda della Comasina. Ma le 3B hanno anche rapporti con elementi deviati, con il neofascismo, con gli ordinovisti. E non è un caso che Vittorio Occorcio venga ucciso nel 1976 dal capo militare di Ordine Nero, Pierluigi Concutelli. E poi c'è la P2. Occorcio, quando viene ucciso, ha appena cominciato a scavare nel pozzo della P2. Ha capito che lì qualcosa non va, ma non riuscirà ad andare oltre, perché appunto Concutelli lo aspetterà sotto casa sua in un giorno d'estate e lo ucciderà a mitragliate. Torniamo alle 3B. Bulgari, il figlio di Ortolani, il re del caffè, Alfredo Danesi, sono tutti sequestri e eclatanti. Il sequestro danesi però non frutta nulla, perché il nascondiglio in cui viene tenuto viene individuato dalla magistratura e intervengono le forze dell'ordine con un blitz e lo traggono in salvo. Quello è il primo segnale e siamo ormai nell'autunno del 75 che il clan dei marsigliesi comincia ad avere dei problemi. Non è più così forte, non è più così intoccabile, non è più così spietato e determinato a prendersi un ruolo preminente su Roma e non solo. Il 29 marzo del 1976 in un residence sulla via Aurelia Albert Bergamelli finisce in manette. Le forze di polizia lo hanno scoperto assieme a un complice semplicemente pedinando la sua donna Antonella Rossi la donna con cui Bergamelli aveva un interesse amoroso e che faceva da staffetta passava da un rifugio all'altro della banda portando rifornimenti e ordini ai sottoposti. Qualche giorno dopo viene arrestato anche l'avvocato di Bergamelli Gian Antonio Minghelli accusato di aver riciclato i soldi provenienti dai sequestri. Sono accuse molto pesanti. Come abbiamo detto a luglio viene ucciso Vittorio Corso e un mese dopo viene arrestato Maffeo Bellicini che però riesce ad evadere dal carcere di Lecce assieme a Graziano Mesina il re della Mala Sarda e un paio di brigatisti appartenenti ai nuclei armati plurietari. Lo riprenderanno un paio di mesi dopo Bellicini mentre sta pranzando in un ristorante a Roma. Berenguer fugge a New York verrà arrestato soltanto nel 1980 e da lì è stradato in Italia ma quello che fa scalpore è proprio l'arresto di Bergamelli che si sembrava essere intoccabile che avrebbe mai osato mettere le manette ai polsi al re della notte di Roma. di fatti quando Berenguer viene portato via in manette urla qualcuno mi ha tradito e quel qualcuno la pagherà perché ho amicizie potenti nessuno riuscirà a capire effettivamente a chi si riferisse Bergamelli. Quel che è chiaro è che la banda ormai è finita è finita perché senza Bergamelli vero capo dell'organizzazione tutto si sgretola in fretta. Certo l'aura criminale di Bergamelli è ancora molto forte pensiamo solo al fatto che in carcere sarà testimone di nozze di Renato Vallanzasca dopo che lo stesso ha fatto pace con Francis Turatello che nell'occasione diventa suo compare Danelli è incredibile la malavita che anche dietro le sbarre riesce comunque a trovare motivi per parlarsi e per stringere alleanze eppure è così ai processi Bergamelli non la sfanga si becca una bella condanna invece il suo avvocato Minghelli lui si la fa franca assolto assieme a Turatello e a Ircamaleonte Danilo Abbruciati perché anche lui era finito nella rete ma ce la fa anche questa volta e dopo un po' andrà a finire nella banda amagliana ma questa è un'altra storia ma non è finita non è finita perché nel gennaio dell'81 quando si deve tenere il processo d'appello per la rapina di Piazza Caprettari quello dell'uccisione di un agente di polizia ebbene uno dei complici e la sua convividente vengono sequestrati portati in una villa picchiati e costretti a scrivere un memoriale i due avevano deciso di parlare di fare i nomi di lavarsi la coscienza magari dietro la promessa di una pena molto lieve vengono costretti quindi a scrivere quelle parole Bergamelli non c'entrava nulla Berengher non ha sparato la lettera viene recapitata in tribunale dopodiché quei due Giacomo Palermo e Angela Piazza vengono uccisi da chi? Secondo quanto ricostruito da complici dei marsigliesi dietro ordine forse dello stesso Bergamelli che dal carcere conta ancora moltissimo è ancora un boss è ancora decisamente rispettato e temuto ma fino a un certo punto perché il 21 agosto del 1982 nel carcere di Marino del Tronto avviene qualcosa durante l'ora d'aria un detto muto comune un altro malavitoso una mezza tacca Paolo Dongo si avvicina a Bergamelli con un coltello e lo ammazza perché? Si dice sia un regolamento di conti d'altronde Dongo apparteneva alla banda rivale la banda dei genovesi ma è strano che si uccida un boss così così come era parso strano l'omicidio avvenuto a Badu e Carros di Francis Turatello ammazzato da Pasquale Barra detto o animale con l'accusa di essere un infame uno che parlava con la polizia o con la magistratura tutti omicidi molto strani forse per coprire qualcosa per coprire sicuramente Jacques Berenguer si muove addirittura Aldo Semerari che quando il marsigliese viene arrestato a New York ed è stradato in Italia compila una perizia psichiatrica di favore come faceva anche per altri semi infermità mentale è scritto nella perizia ma Berenguer in carcere ci finisce comunque anche perché Semerari farà una bruttissima fine di lui abbiamo già parlato e anche Berenguer non rivedrà più la luce del sole verrà ucciso a Nizza in carcere nel 1990 solo Bellicini si è salvato dalla mattanza è ancora vivo oggi ormai va verso la soglia dei 90 anni è la memoria ultima della banda dei marsigliesi del clan dei marsigliesi quel clan che terrorizzò Roma per alcuni anni dominando la scena dominando la scena criminale la scena della prostituzione del gioco d'azzardo introducendo la polverina l'eroina a Roma e spianando la strada a una stagione ancora più cupa più violenta più spietata più organizzata e più tentacolare la banda della Magliana che farà la sua comparsa poco tempo dopo la sparizione dei marsigliesi ne prenderà il posto in tante attività criminali ottenendo fama titoli dei giornali processi ricchezza ma anche tanti misteri e una lunghissima e sembra quasi infinita scia di sangue ра g ti ti sa to sai attra